è così guarda lì e poi piano piano guardi qua piano piano è così ultimo perché te ne viene una sola da te si si perché un video questo se costa un sacco di soli costa molto è 2000 euro grazie questo qua viene a te sola e poi adesso prendi a me e ti prendi anche quando io vado vado dietro quindi c'è i due è così sì 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 Grazie. 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 Grazie.